Flick o flock? Se ti servo sono di... Va bene, grazie ancora di tutto. Eccomi. È gentilissimo ed è così divertente, davvero. Mi ha fatto sganasciare ed è stato qui al massimo 30 secondi, cioè... A te non piace, non ti fa morire Andy Dick. Ti piace? Sì, che ti piace. A me piace, è un grande. A me piace, è un grande. A me piace, è una strada del supereroe e tengo il paese ripulito. Insomma, dove fosse? Ciao, Franchi Lee! Buttiti! Libero il paese dalla sporcizia con i prodotti adatti. E il mio nome è Capitan Capò. Il primo Capitan Capò era il mio papà. Diceva sempre che voleva far diventare il paese pulito e puro. Pulito e puro! Pulito e puro! Ma ho scoperto che era un supereroe solo quando è morto e così... Beh, questa è la sua camera. Guardate cosa ci ha trovato. Vi spiego, è un mantello da supereroe. E poi con il cappuccio qui, ecco, si fa patica a respirare e perciò lo sollevo. Mi pare che faccia anche più carino con un bel sorriso. E poi questo simbolo sul mantello... Eh, non so, mi faceva specie e mi è venuto in mente di coprirlo con questo adesivo, ecco. Simpatico, no? Capitan Capò, Capitan Capò, lo sporco lo mette K.O. Capitan Capò, Capitan Capò, con te e con me non è cattivo. Credo che si facesse chiamare Capitan Capò perché ho trovato questa spilla con scritto K, K, K. Buongione. La ringrazio. C'è una capa in più, ma i supereroi sono misteriosi. Nessuno, nessuno sa cosa vuol dire, no? Salve amici. Durante la notte, dato che lo sporco non riposa mai, allora uso la torcia di papà. Mi piace proseguire la tradizione. Io ripolerò questo paese da cibo a fondo! Mi diceva sempre quando aveva finito la sua bottiglia di pisco. Adesso sono di ronda e... Eh? 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 Va via! Va via! Va via! Perché? Ci sono gli obossumi, i procioni. Sono tanti, tanti animali che girano dappertutto e mordono e diffondono le malattie. Hanno morso mio zio nelle palle. Io non lo so come sia successo. Questo è quello che preferisco, il grande laso. Lo faccio girare così e poi lo lancio sulla polvere, poi tiro. Ti ho preso! Qui nel quartiere non si sono ancora abituati a Capitan K.O. Io cerco di aiutare la gente, ma a volte la gente non vuol farsi aiutare. Non so, mio padre era felice quando pulivo, anche se era ancora più felice quando si brincava di whisky. Eh? Era molto stressato. Ora un po' lo capisco. È difficile ripulire il quartiere. Oggi non indosso il mio costume, come vedete. E vi dico il perché. Ieri sera ho visto un film che si intitola Mississippi Burning e sembra che ci siano persone che con un costume molto simile al mio fanno delle cose cattive. Veramente cattive. Sì, però... Ho una novità. E ho trovato una foto di mio nonno. Ed ero un supereroe laggiù in Europa. Quindi diciamo che sono tornato al lavoro. Grazie, nonno. Verità nascoste con Grant Fishtrack. Il Techstar 2300. Il telefonino più potente che c'è sul mercato. Un potenziale assassino per il cervello. Assassino per il cervello? Ma per favore. è ridicolo. 98% delle persone che lo usano. Cosa devo dire? Magari queste persone ce l'avevano già il tumore. non c'è nessun collegamento. e questa persona ha un bel pizzetto. Ok? E gliel'avrebbe causato il nostro telefonino? E questo che sta dicendo? E questo che sta dicendo? Oh, ma allora mi faccia arrestare chiusi in una stanza fatta di plutonio. Per saperne di più abbiamo fatto degli esperimenti per conto nostro. i risultati sono stati sconvolgenti. Senta, per l'ultima volta, i nostri cellulari sono sicuri. Ne ho dato uno anche a mia madre. Cacca cazzo di uno. Guardi, è un telefonino fantastico. E cosa mi dice di quei copritumori colorati? Li fate sempre voi, giusto? Certo, copritumori. Facciamo anche quelli, e allora? Sono delle girandoline, fiorellini, campanellini che si servono ad abbellire, a impreziosire il tumore. Nel caso che uno ce l'abbia. When life gives you tumors, we'll make tumorase. Tumor toppers there for you. I copritumori non peggiorano lo stato del tumore. Chi ha un tumore anale consulti il suo dottore del culo. Ma cosa sono di preciso questi copritumori? Sono la nuova moda in fatto di accessori o una elaborata copertura per distrarci dai tumori al cervello. E ho qui un sacco di lettere, di lettere di ringraziamento. Grazie, mister, dal Rimpol, per tutti i prodotti che fa per me e per il mio tumore. La gente la ringrazia per averle causato un tumore. No, non ringraziano me perché ho causato un tumore, ma perché ho pensato a campanellini da mettere sul tumore. Mai scordarsi che tu abbia un tumore o meno la vita è bella. Per lei la parola tumore è sempre una cosa pessima, ok? E poi, beh, questa è un'altra linea, non ha niente a che vedere con i telefonini. Niente a che vedere con i telefonini. Non è uno dei vostri cellulari quello nella fotografia? Non so che cellulare sia questo. So solo che quest'uomo mi sta chiamando per dirmi grazie, mister Lewis dal Rimpol, per avermi dato un nastro blu da mettere sul mio tumore. Così posso stare in pubblico. E io, è un piacere per me, signore. E le assicuro che metteremo in vendita altri modelli di copritumore da cellulare. No, non da cellulare. E non mettermi in bocca parole che non ho detto. Figlio di città. No, 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 ora tu te ne vai, sono molto occupato. Addio. Lewis dal Rimpol è il diavolo. No, è molto peggio. Diciamo che se Sata la morisse e andasse all'inferno, lì ci troverebbe come capo lui. Fatto tutto di plutonio. Quel che penso e quello che le dico è questo. Credo nei miei prodotti e la sua intervista è finita. Se ne vada pure. Avrei qualcosa da fare. Pronto? Sì, ti sento. Forte e chiaro. Riusciremo a consegnare Lewis dal Rimpol alla giustizia o continuerà ad agire indisturbato e a vendere i suoi telefonini cellulari e i suoi tumori cellulari. Solo il tempo ce lo dirà. Vi saluta Grant Fishtrack di Verità Nascosta. Buongiorno Minneapolis. Salve, sono Nancy Bunting. Vorrei che vi unisti a me nel dare il benvenuto alla cantante e attrice Bjork. Bjork! Bjork! Non pensavo che vivessi sui balconi di Minneapolis. Benvenuta a Buongiorno Minneapolis, Bjork. Certo, tu sei un po' l'alternativa della musica alternativa. No! Quello che vorremmo sapere da te è... Il tuo volontariato con le balene. Tu sei... Siediti Bjork. Bjork, su qua. E siediti. Bjork! Wow, che uragano! Ti faccio un bel massaggio, così tutto lo stress cattivo se ne va e tu sei bello tranquillo per il cushion. No, no, non ne ho bisogno, sto bene. Ti spiace se mi siedo qui, sai, non ho niente da fare. Va bene. Ciao. 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 M.T.V. al lavoro. Mi chiamo Bob Gunderson. In pacchetto sbarre di cioccolato. Mettila dentro. Ora incastrala bene. Bella, Adele. Bella. Quando dico... Cioè che io impacchetto un barrette di cioccolato. Non so, la gente tende a ridere. Probabilmente perché sono... Sono un adulto. E il lavoro con il cioccolato. E le caramelle, che sono cose da bambini. Credo sia questa la cosa che trovano divertente. Così, quando sono entrato a lavorare qui, com'è nella natura delle cose, avevo ruoli passivi. Erano altri che impacchettavano. Ma poi sono subito passato al retro. Perché, diciamolo, ho la sensibilità del pacco. Onestamente nessun altro raggiunge certe punte di gusto. Ma se voglio, ecco, avere una certa qualità, devo fare una certa pressione sugli altri. Molto bene. Mio padre ha sempre avuto pacchi tra le mani. Mio nonno ha sempre avuto pacchi tra le... Mio nonno aveva una grande esperienza. Ha visto sbarre di tutti i colori. Anche il baronino era un grande uomo. Lui ha sempre rispettato la persona che gli stava davanti. Aveva un gran pulso per pacchi. Non ci si pensa, ma siamo noi a dare piacere nella vita. Grandi spari, grandi pacchi. Joe, sei tutto storto. Ti faccio vedere io come si mette dentro. Sono così orgoglioso di fare il lavoro che faccio che quando conosco una persona nuova gli vado incontro con un sorriso. Gli stringo la mano vigorosamente e dico, sono Bob Gunnarsson. È questa mano che la comporta alla tua sbarra di cioccolato. Una sbarra di cioccolato, piacere irrinunciabile. Buongiorno, Minneapolis. Bjork oggi ci preparerà una tipica colazione islandese. Non so che ne dite voi, ma io non vedo l'ora di assaggiare un vero piatto vichingo. Questo in Islanda si chiama cioccolato... Cioccolato... Cioccolato, oh! Limone e cioccolata in genere non si mischiano, ma tu sei cresciuta con le balene e... Oh! Fallo assaggiare a Nancy. Delizioso. Ora si spiega perché dicono che i vichinghi fossero gente nervosa. Guarda qua, questo è un frustino. Ma quanto è divertente cucinare islandese. Ecco, questo non... Ecco, dicevo, questa non è una cosa che... A volte... Certe volte... Sai una cosa? Sai una cosa? Beccati questo. Sì, senz'altro. Oh! 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 Ora basta! Lo sai che hai sputtanato la trasmissione grandissima zoccola? No, no, è stata io! No, ti faccio vedere io, brutto... Brutto animale da cortile! Tu sei una maiala! Sei una porca alternativa! Ti appena, ti è l'alcanza! Più state con noi, più Andy Dick avrete. Mi serve un cancro. Tom Green ha avuto un tumore ai testicoli e il suo indice di gradimento è schiitato. Andy Moore canterà la nuova hit di Mandy, I wanna be with you! Andy! Andy! Andy, sono Mandy! Oh, ciao, 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 Mandy! Ciao! Come va? Mi sono divertita un sacco, il segno. Già, sai, mi dispiace. Lo so che mi sono completato un po' da folle, ti sono anche finita il rosso. No, anzi, perché non mi hai tirato qualcosa? Sarebbe stato più divertente. Guarda che non me la sono presa, mi diverto davvero. Ti è piaciuto il gestino? Ah, l'hai mandato tu? Sì. Bello! Wow! Beh, grazie! Mi dobbiamo dare un abbraccio. Ah sì, ma certo. Bene, ora però dovrei cambiarmi, non è un grande spettacolo, per cui se esce... Ok, io mi faccio una doccia, tu vai. Beh... Sai, io dovrei... Guarda, io mi siedo qui, guardo la tv, ascolto della musica, non ti accorgerai neanche che ci sono, te lo prometto. Ma non toccare le mie cose. Ti amo, grazie. Cosa c'è? Andy! Cosa? Sono Mandy, che stai facendo? Non entrare! Ok, ma... Andy! Per favore! Ah! Va via! Sono nudo! La settimana prossima all'Andy Dick Show. Chi trovi?